Amici di vanovarava.it siamo in compagnia di Giovanni Serao, ex calciatore, ha militato in Serie A e ha vestito la maglia del Novara Calcio anche nella stagione 2003-2004, attualmente è direttore sportivo al Verbagna Calcio. Ben arrivato Giovanni. Buonasera a tutti, grazie. Ecco, parliamo un attimo del Giovanni Serao della stagione 2003-2004 che arriva a Novara, un Novara che era riduce dalla promozione dalla C2 alla C1. Che ricordo hai di quel campionato? No, sicuramente un bel ricordo perché era un gruppo molto compatto che venivano da un campionato vinto, perciò c'erano ragazzi veramente molto validi che ricordo ancora adesso e ci sentiamo ancora adesso. Infatti molti di questi ragazzi poi hanno fatto anche della carriera e sono veramente contento di aver vestito questa maglia perché ci vivo in questa città e sono orgoglioso di andare spesso allo stadio a vedere, a tifare questi colori. Da tre anni possiamo dire che hai smesso con il calcio giocato, hai fatto un'esperienza come direttore sportivo due anni nel Brigacalcio, da questa stagione possiamo dire che hai fatto il salto di qualità, sei direttore sportivo in Serie D del Verbagna. Parlaci di questa tua nuova avventura. Sicuramente sono contento perché faccio parte di una realtà che ha una storia che è il Verbagna dove ci sono veramente delle persone, uno stadio, una tifoseria dove veramente si può fare calcio e dove io veramente ho tantissima voglia di mettere in mostra le mie possibilità, la mia esperienza in tutti questi anni che ho accumulato e poi quest'anno ho avuto anche la fortuna di fare il corso da direttore sportivo e sono veramente orgoglioso di iniziare in questa realtà. Che obiettivo vi siete posti per questo campionato? Sicuramente dopo il campionato vinto l'anno scorso vorremmo salvarci, fare una stagione tranquilla e sicuramente valorizzare alcuni giovani perché abbiamo una rosa abbastanza giovane. Rimanendo sempre sul discorso dei giovani, anche il Novara Calcio da quest'anno possiamo dire che ha tenuto molti giovani, due veterani come Buzegoli e Gonzales, un allenatore banchieri che ne parlano molto bene e dicono che sappia farci con questi giovani. Il tuo giudizio sul nuovo mister? Sicuramente anch'io ne penso come la stampa, come la gente addetta ai lavori, è una persona che sa lavorare molto bene con i giovani, abbiamo fatto un amichevole controllo, e ho visto che veramente gli fa tirare fuori il cuore, che a volte il giovane nei momenti di difficoltà ci saranno sicuramente, va aiutato, va capito. È secondo me la persona giusta per ripartire con una squadra molto giovane ma sicuramente con dei giovani di qualità. Domenica alle 17.30 il Novara gioca tra le Muramiche contro la Pergolettese, che partita ti aspetti? Sì, sicuramente tutte le partite sono difficili, non sarà una partita facile, però il Novara quest'anno ha iniziato sicuramente un buon campionato e ho visto una squadra che veramente sa aspettare e colpire sicuramente nei momenti di difficoltà della squadra avversaria in contropiede e secondo me può portare a casa i tre punti, perché in questo momento il Novara sta bene, hanno voglia, hanno ambizione e spero che porta a casa i tre punti. Grazie.